tre punti meritatissimi ma tanta fatica per sbloccare questa partita un'ulteriore dimostrazione di quanto sia importante Alfredson anche per questa squadra in queste situazioni più difficili beh in dubbio, Emil è importantissimo per noi, ha fatto un gran gol, ha sbloccato una partita difficile perché comunque una squadra si chiudeva, un campo insomma non è neanche facile giocare però credo che dipende dalle difficoltà abbiamo sempre avuto grande predominio abbiamo avuto occasioni importanti e molta tranquillità e pazienza nell'andare a cercare la vittoria poi insomma credo che le difficoltà maggiori magari si sono venute proprio quando siamo andati in vantaggio lì abbiamo peccato a volte di presunzione, voler magari richiuderla individualmente però credo che insomma abbiamo fatto una buonissima partita e di partite facili non ce ne sono La sorpresa al momento della lettura delle formazioni, una difesa rivoluzionata i due terzini titolari, Abate e Scaglia neanche in panchina, perché? Ma abbiamo alternato, insomma avevano speso tanto, insomma l'altra partita con il Groseto avevamo fatto bene quindi abbiamo una rosa che ci permette il voglio tutti pronti, quindi non se l'aspettavano neanche loro Nel primo tempo eravate riusciti ad imbrigliare bene il Verona, poi l'invenzione di Alfredson ha cambiato tutto Sì, effettivamente avevamo fatto una buona gara, anzi nel secondo tempo stavamo anche crescendo ma quel gol ci ha un po' tagliato le gambe, devo dire che poi abbiamo avuto delle ottime occasioni per pareggiare ma non ci ha un po' tagliato le gambe, devo dire che poi abbiamo avuto delle ottime